Sì, è troppo lontani Porto che è? Sei riuscito a fare i giocatori? Uno, due, ci vediamo Qual è la revoluzione di questo? Ma perché? Ciao, la Conde Magnotena Questo è il suo Art Attack In disegnata posizione Vai, che siete? Art Attack Brava, c'è da me Ricordi Ok, posizione di interroviare Non lo so Sai tutto Questo è il mio Ciao, lente Esatto Votre, padrono, fio, ferro, luca, perdona No, che fai? Caro, come sei? Art Attack, Scorpion Art Attack, Scorpion C'è la propria gianca, no, ancora chiusa Ok E intanto ci sono messo trenti tipi di ruoli Il... One hand attack Il one hand attack Il one hand attack Di Caminforoni La Whip La Whip La Whip Dei Samuere, dottori Questo non ti voglio vedere E questo non lo so L'altro E il Superman Per Matteo Monteoli Il one hand attack Il one hand attack È stato meglio la camicia di hand Da scappo così Molto Ma in piaccia Il look dead Ma ricordiamo che le protezioni sono sotto Quindi Lati non stanno salzando i magneti Assolutamente Assolutamente È tutto E se è successo qualcosa A Whip Troppo lontani sono Praticamente Oggi è domenica l'ultimo giorno È la volta degli show action Ruoti una montarda Dietro di lui L'iridato Campione montarda Ed entrano i riders Con l'apertura In impegnata in wheeling Porto che Cosa c'è L'uscita con Eridiano Fatta in Gis E centina Pronti con l'aperitivo No Comunque ci spiego Tutto è pronto Contro la rovescia International Race Supermoto Motorive L'Ulgezzese Si sortono Su Il padre Hermunen Guardiamo Mamma mia Contatti dietro Hermunen Occhini Con la tuta gialla Lo sloveno Lo sdastran Capodone intanto Per Il Un pilota Non vediamo il nome Ma era già attardato Ivan Lazzarini Che cerca di farsi largo Per recuperare Mauder Munen Andrea Occhini E l'ingresso L'il Duro Contatto Massimiliano Verderosa Però respinto L'attacco Respinto Ivan Lazzarini A terra Giornata no Per Ivan Giornata no A terra Ivan Fuori Dalla possibilità Di versicolare Il peccato Contatto Così come Fuori L'Italia E' L'organizzazione Il peccato Il peccato L'attacco L'inverno Di versicolare L'inverno E' Ha deciso anche lui Di essere presente A Ecma Forseeds Quindi scende Il quad force vicini di Caprino è proprio un po' assoluto per Fontanati. Con la magnotchera abbiamo il nostro Elvis Anthony, quinto classificato al barattolo del testo. Lui è stato riconosciuto quinto posto assoluto mondiale da tutti i sosia di Elvis. Eccoci qui. Ci siamo allora, velocemente, disprochiamo solamente a portarci verso l'alto con l'attenzione e ingresso. Secondo appuntamento di giornata in compagnia dei double rider. Però sono stato sempre le varie brutte. Vediamo il suo discorso di fanghe. La seconda linea, eccola qui. Seconda linea, anello, anello, quindi apriamo la seconda rampa in questione per il Sentamonte. dove si trova Orale Monta, seguendo da Carlo Carezzani nel turno di Kevin Ferrari e adesso RockSolid. il pilota fotografico di Samway Lottori e Cliffhanger ancora il quadro polare Stan Sablin in Swissblade in Vianair. Il sento perfetto dei ragazzi in doppio sulla rampa, guardali lì insieme. Il cosiddetto salto, spesso salto appaiato. I due piloti cercano di eseguire anche una stessa figura e ci riescono veramente in modo eccesso. Intanto si continua ancora con il salto in coppia. Sì, ma subito dopo a seguire c'è immediatamente l'altra rampa, la seconda linea che deve essere occupata da tutti i piloti in questione. Intanto, tra poco, attenzione perché dobbiamo avere un occhio di riguardo per i piloti di coda, quindi coloro che andranno a chiudere dopo il tempo, quindi a tutti i riders, di portarsi nuovamente in posizione che si può intanto Ivanzuk con il Shaolin. Attenzione viceppiere Angela, attenzione a coloro che chiuderanno la session. Attenzione Milano, attenzione, subito! Vagliotica! Vagliotica! Alexi Aguantikoff! Ivanzuk! Uno, due, ci vediamo che vediamo qual è l'evoluzione di quest'ultima, ovvero la figura stessa e backflip! Backflip! Esatto! Backflip! Vagliotica! Non può mancare quello di... E allora... E allora se ci siamo facciamoci sentire ogni qualvolta i nostri piloti... Vi chiederanno l'appoggio per casarsi al meglio, ancora una volta, tutti i piloti in session, sempre solo, siamo sulla prima linea, aprirete... Apriremo anche la seconda linea, quindi la lega... Vedremo un po' di... Faccio di movimento ancora questa linea perte! Esatto! Si complicheremo un po' la diventata, è difficile seguire... Stiamo schierando pronti per il bel evento! Puliscono la gomma, non solo burnout, ma serve per ripulire la gomma dalla terra... E si è attaccata per avere il bel grip giunto in partenza... Prima fila, 131! Manuel Munen, 5 a 2, Andreo Chini, 144! Uno Snafran, 113! Massimiliano Verderose, poi anche una seconda fila di tutto rispetto, Marco Alimento 7, 121 per Trami! Poi 611 per Stefano Dami! E poi... Venta in Piano Morella, ma ci siamo! Luca Dandato out dallo schieramento! Oh! Primo colpo di scena! Aiaiaiai! Problemi, peccato per... Dandato! Problema tecnico! Sconsolato l'ex campione europeo, vanno alla moto! Guarda, la natura, fai le passi! Un tiro! Togliono le seguie! Sconsolori, ple! Svi-e su trucco 13, 4 posizioni! S5 da recuperare! 2 pato, 4 pato P 125, p 125. Grazie a tutti.